Vienna, 27 aprile 1851. Cara Giuseppina, mi stanno venendo delle idee per una nuova opera. Mi vengono alla mente diverse sezioni musicali, ma ancora nessuna parola. Io ho tutto quanto dentro la testa, tutti gli strumenti. Voglio lavorare a un pezzo che riguarda la donna. Lo sembra. E' una fiamma. Sono certo che quando ti vedrò mia musa, i testi mi verranno. Mia maga. Addio. Caro Verdi, un'opera ispirata alla donna. Mi auguro sinceramente che fra tutte le signore io non sia solo la tua compagna, bensì anche la principale ispirazione che darà vita a quelle idee. Un bacio sul cuore, Peppina. Giuseppe, Giuseppe, amore mio! Oh, amore mio dolce, quanto mi sei mancato. Amore mio, anche tu bentornato. Questo è per te. Un regalo? Sì, solo per te. Posso aprirlo? Subito. Ta-ta! Ti piace? Un corsetto? Un corsetto viennese, è all'ultima volta. Io odio il verde. E poi l'hai vista la taglia di questo corsetto? Lo vedi come sono magra io? Sono magra! Non sei una capra grassa, una mucca, una cicciona! Tieni di tuo corsetto! La donna è immobile, con il piume al vento, è muta da cento e di pensiero. E' muta da cento e di pensiero. Madonna. Peppina! Ha trovato l'ispirazione!